E benvenuti ancora una volta alla nostra trasmissione in viaggio con l'esperto. Con me c'è sempre Marco Floreani, tornato da Un Suo Viaggio. Buonasera. Buonasera a tutti voi e tutti i cari telespettatori per questa nuova puntata di In Viaggio con l'esperto. Benissimo. Oggi vi vogliamo sempre portare in giro per il mondo, ma in una maniera diversa, perché questa volta praticamente viaggeremo via mare. E voglio subito presentarvi la nostra esperta in crociere, che fa parte dell'ufficio di Udine dell'agenzia T85, Eva Novello. Buonasera. Buonasera a tutti. Eva, parto subito da te. Si possono fare le crociere durante tutto l'anno? Sì, assolutamente sì. Diciamo che abbiamo a disposizione il nostro Mediterraneo, che va benissimo tutto l'anno, perché è visitabilissimo anche d'inverno, ma sicuramente è più bello da visitare d'estate. Quindi si possono fare delle crociere in Grecia, oppure nel versante occidentale, che toccano specialmente la Spagna. Perché no al nord Europa, se si vuole visitare ad esempio le capitali baltiche oppure i fiordi, mentre se ci spostiamo in altri periodi dell'anno, specialmente d'inverno, abbiamo la possibilità di ricercare il sole anche d'inverno, appunto. O andando negli Emirati Arabi oppure ai Craibi. Prima appunto parlavamo io e te Marco, no? Delle mete, diciamo, solite da raggiungere appunto con le crociere durante l'estate e inverno. Quali sono le differenze d'estate? Quali sono le mete preferibili ed inverno? Allora, sicuramente in Grecia si va benissimo d'estate, ma anche nella nostra primavera o anche in autunno, perché è visitabilissimo, le temperature sono anche molto belle. In Spagna assolutamente, in autunno si predilige anche la crociera che arriva fino alle Canarie, quindi per ricercare ancora l'estate nel periodo di ottobre o di novembre. E poi durante il nostro periodo invernale andiamo a ricercare le spiagge ai Caraibi. Ad esempio, bellissima la crociera di sette notti o di quattordici notti, che tocca ogni giorno un'isola diversa. Quindi si possono visitare tutte le isolette o la maggior parte delle isole dei Caraibi in un solo viaggio. Questa è la peculiarità della crociera fondamentalmente. Sì, volevo chiederti anche, ci sono parecchie crociere molto particolari, ad esempio, no? Crociere proprio d'elite, di nicchia. Ho sentito che ci sono delle crociere per raggiungere, ad esempio, addirittura il Polo Sud. Ci puoi raccontare qualcosa di merito? Sono delle crociere sicuramente diverse rispetto a quelle che noi ci immaginiamo nelle nostre crociere abituali, no? Che fanno la maggior parte delle persone. Sono delle crociere di nicchia, sono delle crociere con delle navi molto più piccole, perché appunto devono raggiungere dei luoghi sicuramente incontaminati, dove i porti non sono attrezzati. E quindi sono delle crociere anche per dei clienti che hanno già visitato, diciamo, la maggior parte delle mete più turistiche. E quindi si spingono magari ai confini del nostro mondo. Quindi potrebbe essere appunto nel nord Europa, o potrebbe essere in Antartide, come appunto ne avevamo parlato prima. Insomma, varie tipologie. Ormai il mondo della crociera, il mondo croceristico è cambiato, nel senso che si può arricchire la propria crociera anche in quelle che noi vendiamo nella quotidianità. Ad esempio, ormai è la portata di tutti, nel senso che la crociera la possono fare le famiglie con i bambini, anzi a maggior ragione, perché ci sono delle tariffe speciali, i bambini non pagano fino ai 18 anni, se non le tasse portuali. Hanno a disposizione i mini club, i baby club, tutta l'animazione. Quindi c'è tutta una serie di agevolazioni, appunto per lasciare anche i genitori divertirsi e rilassarsi ovviamente. Esatto, esatto. Ma perché no, per viaggi di nozze, oppure per delle persone che vogliono semplicemente rilassarsi e farsi una vacanza sicuramente rilassante. Quindi, però per far capire un po' al pubblico che ci segue, no? Quali sono le diversità, le cose differenti tra andare in un villaggio, in qualsiasi destinazione nel mondo, e invece scegliere di salire su una nave per fare una crociera di sette, oppure di più giorni su una nave? Cosa trovano di diverso su una nave? Sì, in realtà la nave da crociera è un villaggio galleggiante fondamentalmente, quindi si ritrova un po' quello che c'è nel classico villaggio turistico. La differenza sta nel fatto che si visita ogni giorno un luogo diverso, quindi la sera si naviga, la mattina si arriva nel nuovo porto, si scende con delle escursioni che si possono organizzare anche già prima, oppure si acquistano direttamente a bordo e si passa la giornata nel porto in cui si è arrivati a destinazione. Durante la fase di navigazione abbiamo un mondo di attività che possono essere appunto dai vari ristoranti tematici, ovvero la possibilità comunque di poter mangiare a qualsiasi ora, e quindi anche una flessibilità da questo punto di vista, ma anche la possibilità di partecipare a dei giochi, al gioco aperitivo, al mini club per i bambini, al cinema 4D, quindi una serie di attività che si trovano sia nei villaggi turistici, sì questo è vero, ma con un modo diverso di viaggiare, quindi la possibilità di arrivare in un porto nuovo, in una destinazione nuova ogni giorno. Parlando appunto, scusami Marco, di aperitivi, queste cose qui che appunto si trovano a bordo della crociera, come funziona? Ci sono pacchetti all inclusive dove ogni cosa che si consuma a bordo è già compresa nel prezzo, oppure ci sono anche appunto delle tariffe aggiuntive? Allora, anche in questo caso il mondo della crociera finalmente è cambiato, perché diciamo che la problematica che veniva sempre esposta dai clienti iniziali era, sì ok, questa tariffa è agevolata, è un buon prezzo, però dopo cosa devo pagare a bordo? E quanti soldi mi vanno a bordo? Perché ovviamente il costo di una bevanda su una nave da crociera non è poi così basso. Ad oggi invece abbiamo la possibilità di vendere un pacchetto finito, quindi anche dire al cliente quanto andrà a spendere completamente. Con certezza. Esatto, può aggiungere tutto, che può essere appunto dal pacchetto bevande, quindi uno l'inclusive, può aggiungere anche già da prima le escursioni e può aggiungere subito anche le quote di servizio. Quindi in realtà può avere un pacchetto completamente finito e sa benissimo quanto va a spendere senza sorpresa a bordo. Ecco, per cui dunque il vantaggio di una crociera è quello di avere la possibilità di visitare ogni giorno, ogni paio di giorni a secondo della tipologia di crociera, dei luoghi diversi, fare delle escursioni organizzate dal personale della nave in luoghi chiaramente tutto il giorno diversi, ma comunque sulla nave la sera possiamo trovare tutte quelle cose, cioè il teatro, le discoteche, le serate di gala, che si possono trovare anche dei villaggi. Questo è sicuramente un valore aggiunto a quello che è il villaggio, che da esperienze che ho fatto io, l'era ci sono veramente delle vedette internazionali nelle sale da teatro e ce ne sono più di una su una nave, per cui la gente chiaramente può trovare anche quel divertimento serale che magari in un villaggio non sempre trova. Sì, sicuramente. Marco, parlavamo prima appunto, no? Ci sono posti e posti, dunque ci sono crociere che hanno una certa portata di passeggeri che possono raggiungere solo determinati posti, mentre poi ci sono anche delle crociere che tengono meno passeggeri. Sì, esattamente. Ci sono delle crociere, le abbiamo organizzate anche noi, ad esempio con barcavela, dove il numero degli utenti è sulle 12, 15, 20 persone. Sono crociere più piccole organizzate per nicchie di persone che vogliono raggiungere mette molto particolari, dove le grandi navi da crociere ad esempio non riescono ad arrivare. C'è tutta una tipologia poi molto variegata per poter soddisfare tutte quelle persone che vogliono stare in barca, sul mare, in mezzo alla natura e fare un viaggio particolare che non è quello solito in un villaggio oppure in una città di terra. Direi che il mondo delle crociere veramente ha una gamma altissima che parte appunto dalle crociere grandi portate da 4.000 a 5.000, adesso stanno costruendo una meganave da 6.000 posti letto, per cui insomma veramente delle città galleggiane incredibili. Ha anche situazioni molto più modeste, più piccole, però più di nicchia per appunto andare in posti molto particolari. Io non ho mai fatto una crociera, voi due sì. Cosa ci si aspetta? Cosa mi devo aspettare da una crociera? Hai la possibilità ogni giorno di vederti un posto, una località diversa. Chiaramente Sara non ti nascondo che magari se vai a Barcellona 5 ore di tempo sono troppo poche per poter apprezzare la città, però intanto la gusti, intanto prendi il primo assaggio, dopodiché se ti è rimasta davvero nel cuore ci ritorni e la approfondisci, però ti dà intanto la possibilità di assaporare veramente più destinazioni e soprattutto il profumo del mare, perché se ti prendi una bella cabina con balcone è veramente impagabile il prezzo che hai nel momento in cui ti svegli la mattina, apri la porta, ti affacci verso l'oceano, verso il mare. Stupendo. Ancora una domanda Eva. La minima durata per fare una crociera? Cioè almeno quanti giorni? Ma in realtà varia. Ci sono le mini crociere che sono di tre notti o di quattro notti e si passano anche a crociere della classica settimana fino ad arrivare al giro del mondo, dove si può passare veramente mesi e mesi intorno al mondo, navigando intorno al mondo e visitando la maggior parte del pianeta. Ci sono crociere proprio a tema? Cioè ci sono crociere, non so, magari destinate a singole, a persone che magari vogliono fare conoscenze? Ci sono diversi tipi di crociere, giusto? Sì, soprattutto perché per i single diventa complicato anche a causa del sovrapprezzo della cabina singola. Quindi o ci sono delle partenze proprio a loro riservate oppure appunto diventa veramente complesso la possibilità di poterci partecipare perché l'80% in più è sicuramente un peso. Tuttavia c'è anche la possibilità di poter partecipare ad eventi e crociere a tema come ad esempio quelle culinarie. Ospiti famosi come ad esempio Grandi Chef. Bellissimo, io sono golosissima, questa cosa mi piace molto. Beh, molto bella anche una crociere che si fa sui fiordi norvegesi con una vecchia nave postale, cioè una nave che serviva una volta per portare la posta nei vari fiordi ed è molto interessante perché raggiunge anche quella dei fiordi incredibili, dei posti veramente fantastici che sarebbero difficilmente raggiungibili anche via terra. Per cui anche quella è una particolarità di questa crociera che potrebbe far assaporare veramente un mondo del nord che difficilmente è facile da raggiungere. So Marco che tu dovevi andare verso il mappamondo. Mentre tu ti dirigi verso il mappamondo, io allora vorrei fare un piccolo resoconto con te Eva. Le crociere ci sono di diversi tipi, diciamo le principali. Crociere del Mediterraneo, crociere nel Medio Oriente, crociere del Nord Europa, sempre specialmente d'estate insomma, crociere ai Caraibi di vario genere, sia nelle Antille che quelle che toccano il Messico, la Giamaica e poi la crociere a giro del mondo. Benissimo. Perché è tutto un po' a disposizione ovviamente. Assolutamente, perché insomma per andare fino in Messico non si può stare tre giorni. No, assolutamente. Benissimo. Allora io ringrazio appunto Eva dell'ufficio di Udine, dell'agenzia di viaggi T85. Io raggiungo Marco perché appunto lui doveva raggiungere il mappamondo perché mi doveva raccontare, io non lo so, dove andiamo la prossima volta, ma mi hai dato prima questo Deppian quindi adesso lo so. Adesso sai dove andiamo. Per cui il prossimo nostro viaggio sarà negli Stati Uniti. Andremo a conoscere, capire e visitare questo meraviglioso paese fatto di 50 stati per cui sarà fantastico ripercorrerlo da nord a sud, da est a ovest, questo meraviglioso paese che si trova qua. Eccolo qua. Sarà il nostro nuovo mondo da visitare nella prossima puntata. Gli Stati Uniti d'America. Benissimo. Allora vi ringraziamo e ci rivediamo il prossimo lunedì sempre alle 18.35 qui su Telefriuli, canale 11. Ciao. Ciao. Ciao.